Ogni volta che esce una nuova generazione è sempre bellissimo sperimentare i nuovi team con i nuovi Pokémon che Game Freak ci ha riservato per la nuova generazione. Mi ero fatto dei piani ben precisi su quali Pokémon utilizzare alla vigilia, ma poi ho preso altre strade. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi quale team avete utilizzato nella vostra prima avventura in Pokémon Scarlatto e Violetto. Io vi sto per dire il mio, magari mi darà un po' di spunto, un po' di idee. Commentate anche valutando il mio team, scrivete cosa ne pensate del team. Che ho utilizzato nella mia prima avventura in Scarlatto e Violetto. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale perché è una buona percentuale di voi non ancora iscritta e potreste darmi una mano per avvicinarmi al traguardo dei 100.000 iscritti. Mi raccomando, pensateci. Ad inizio novembre ho fatto, vi ricordo, sul canale un video sul mio team in Pokémon Scarlatto e Violetto. Per quanto riguarda lo starter, diciamo che ho rispettato quello che avevo detto. Perché effettivamente ho scelto Fuecoco, quindi lo starter Fuoco, perché era semplicemente lo starter che mi piaceva di più. Fuecoco è veramente bellino, molto simpatico. Sì, nelle prime scene mi ha veramente colpito, conquistato e alla fine sono andato per lui. Quindi per avere come Pokémon finale uno Skeledirge. Mi è stato utile quindi questo Skeledirge durante l'avventura? Beh, direi di sì. Inizialmente ero abbastanza scettico, perché lo vedevo molto lento, comunque sia, più lento di altri starter. Ma comunque, ragazzi, regge veramente molto molto bene i colpi, dispone di ottime difese. Ero anche un po' titubante per il suo Fuecospettro, già visto quest'anno con il Telefusion di Zui. Però, come vi dico, mi sono dovuto ricredere. Non voglio sbilanciarmi tantissimo sullo starter, perché probabilmente ci farò un video apposito. Diciamo che soffre particolarmente a centro gioco, in particolare per il moveset. I suoi colleghi intermedi dispongono di mosse magari più potenti, più utili. Però, una volta che vi ritroverete tra le mani il buon Skeledirge di tipo Fuoco Spettro, beh, avrete delle mosse a disposizione veramente incredibili. Infatti, oltre alle varie stab speciali, come Lancia Fiamme, Fuocobombo, Palla Ombra, avrete anche a disposizione la mossa nuova e peculiare di Skeledirge Canzone Ardente. Una mossa a fuoco di 80 di potenza base che ogni volta aumenta di uno l'attacco speciale. Quindi, potreste veramente ritrovarvi a distruggere l'intero gioco. Dopo il nostro starter, Skeledirge, parliamo di un Pokémon che mi ha veramente stupito. Non me l'aspettavo, ovvero l'evoluzione di Nimble Lockix. Il primo, con le otto buio. Un typing veramente incredibile. Il design, anche qui, inizialmente mi lasciava un pochino dubbioso, perché vedevo questo Pokémon tutto spigoroso, tutto strano, ma alla fine, ragazzi, mi è veramente stato utile per tantissime parti di gioco. Non sarà il Pokémon più forte per quanto riguarda le statistiche. Infatti, alcune sono anche un po' bassine. Però devo dire che è stato molto veloce, ha un buon attacco fisico, dispone di ottime mosse, sia con le otto, sia buio, sia lotta. Anzi, verso il 50 impara Calcio ad Ascia, una mossa 130, se non ricordo male, di potenza base, di tipo lotta, che sì, può rischiare di farvi del male, perché se il Pokémon si sbilancia, sono dolori, però veramente un ottimo moveset per questo Pokémon. Per il Pokémon di tipo acqua, in questa generazione, ho voluto sperimentare. Ce ne sono veramente dei bellissimi, in caso non scegliate Quaxle, e io, incredibilmente, ho scelto Velusa. Sì, ho utilizzato un Velusa nel corso della mia avventura. Questo Pokémon, ragazzi, può essere veramente molto, molto forte, perché io ce l'avevo comunque sia con l'abilità principale Rompiforme, ma potrebbe essere anche con l'abilità nascosta, ovviamente, Affilamo, una nuova abilità che aumenta la potenza delle mosse taglio. Questo Pokémon, appunto, dispone di una grande quantità di mosse taglio, compresa la nuova mossa taglio di tipo acqua, Idrotaglio, che aumenta la possibilità di causare brutti colpi, e se usata in coppia con l'abilità Affilamo, ovviamente aumenta la propria potenza del 50%. Mi è stato abbastanza utile nelle basi del Team Star, contro gli allenatori di tipo lotta e di tipo veleno, ma anche nel corso della maggior parte delle palestre, quindi è un Pokémon che sono riuscito a utilizzare per una grande porzione della mia avventura. Incredibile, ma vero, in questo gioco sono andato a utilizzare Tinkaton, il nuovo Pokémon martello di tipo acciaio folletto di questa generazione, con un Pokémon che di solito non è da me utilizzare, perché non apprezzo molto questi mostriciattoli solitamente. E invece, pure qui mi sono ricreduto, quindi ho fatto bene a sperimentare, poi sappiamo che la combinazione di Tinkaton acciaio folletto è molto forte, molto resistente, abbiamo visto anche in ultima generazione, Zassian, un Pokémon che ha spaccato letteralmente il competitivo. Infatti, questa combinazione di tipi ha solamente due debolezze per due, fuoco a terra, due immunità, drago e veleno, quindi ho utilizzato questo Pokémon in lungo e in largo per la regione di Paldea, tra basi del Team Star, Palestra, Lega Pokémon, è veramente un Pokémon da utilizzare in mille modi. Per quanto riguarda le statistiche, si agia sui 500 come somma delle statistiche base, quindi buono, non ha un grandissimo attacco sinceramente, però dispone di una nuova mossa peculiare, gran martello, una mossa fisica, 160 di potenza base, di tipo acciaio, che però non può essere utilizzata due volte consecutivamente. Però è una grande mossa, mi ha veramente aiutato tantissimo nell'avventura. Anche in questo Team ho voluto comunque sia aggiungere e provare soprattutto un nuovo tipo elettro. Il tipo elettro è un ottimo typing, veramente va bene contro moltissimi tipi, quindi ho provato Kilowattrel. Possiamo dire che è il volatile di questa generazione, il classico Pokémon tipo volante in questo caso con il tipo elettro. È un Pokémon abbastanza buono, comunque sia con una nuova abilità energie eolica che praticamente carica il Pokémon se questo Pokémon viene esposto alle mossa vento, quindi potenzierà la successiva mossa di tipo elettro. È un Pokémon applicato speciale, veloce, con buone stab speciali, quindi come Tifone, come Scarica, come Invertivolt, ha anche Energiesfera con cui ho one-shotato anche il dominante Bombirdier, anche perché con i livelli un po' sfasati non si capiva più niente a un certo punto. Per concludere quindi il mio team e completarlo con un sesto membro, sono quindi andato a scegliere Todd Scruel, questo strano Pokémon che somiglia al caro e vecchio Tentacruel. Di tipo terra-erba devo dire che mi è molto piaciuto utilizzare questo Pokémon, in particolare, ragazzi, sarò sincero, mi piace tantissimo il suo design, i suoi colori, il fatto che c'è questo Tentacruel che praticamente si regge in piedi sui tentacoli, veramente molto originale, mi piace tantissimo. Le statistiche sono comunque buone, è molto veloce, è un ottimo difensore speciale e dispone anche di attacchi speciali di tipo erba e di tipo terra, come per esempio Giga Assorbimento, Geoforza e io dicendo, quindi delle ottime mosse comunque. Che cosa ne pensate quindi del mio team? Valutatelo qui sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale perché una buona parte centrale di voi non è ancora iscritta e mi raccomando supportate il video lasciando un bel mi piace, che per me sarebbe veramente fondamentale. Per oggi quindi possiamo dire che dal buon Rocket è tutto, io recito e vi do appuntamento nel prossimo contenuto sul canale, quindi ovviamente, come sempre, bye bye!